Abbiamo grandi difficoltà lungo la costa con il maltempo, con i mancati interventi di contrasto all'erosione di questa giunta regionale. Siamo a sei mesi dal fine della legislatura e dopo tante promesse vane, tante bugie, abbiamo visto il nulla di questa giunta regionale circa il contrasto all'erosione. In più in questi giorni i comuni costieri stanno sostenendo i costi per quanto riguarda la rimozione dello spiaggiato e io penso per questa ragione ho presentato una risoluzione in consiglio regionale che debba intervenire la regione per sostenere, indennizzare e aiutare i comuni per la rimozione dello spiaggiato. Sono costi importanti ma la regione non può girarsi dall'altra parte anche su questo tema dopo i grandi fallimenti per quanto riguarda il contrasto all'erosione.